ecco un altro esercizio sempre per gli addominali con l'utilizzo della bolla una volta posizionata la palla all'altezza delle tibie porteremo le ginocchia al petto e torneremo in posizione plank senza mai inarcare la schiena tutto questo per 30 ripetizioni alla fine possiamo recuperare un minuto tornando in posizione e mettendo pausa all'elettrostimolatore grazie a tutti